Come si può fare? Bisogna sicuramente puntare sulle specificità della regione. Qui parlo di Corizia e dell'Isantino, parlo di cultura, parlo di enogastronomia e parlo di artigianato. Vanno valorizzate sicuramente tutte le nostre virtù per farle conoscere al di fuori del nostro territorio e puntare sul rilancio rapido e concreto della nostra area. Grazie a tutti.